Ok, benvenuti, vedremo come fare a fare degli effetti di texture di riflessione di un ambiente esterno quindi lo faremo su un anello o un bracciale che rifletterà un tramonto, insomma un qualche cosa su cui abbiamo una foto quindi prima cosa selezioniamo e cancelliamo il nostro cubo e poi cerchiamo di costruire la mesh più vicina a un anello, c'è un toro ci avviciniamo, andiamo in edit mode, alt tasto destro, selezioniamo questo anello interno e poi abilitiamo O per S per abilitare praticamente il fatto di spostarlo in modo tale da creare una forma che possa essere riconducibile a quella di un anello facciamo un po' di provine, insomma adesso qui solo per farvi vedere, comunque così, vabbè, già potrebbe essere una forma anellata adesso per questi pochi secondi va bene aggiungiamo lo smooth che è importantissimo per vederlo, quindi andiamo anche in object mode e mettiamo tutto in smooth e così abbiamo questa specie di anello quindi l'anello ce l'abbiamo, cominciamo a fare di questo anello ricordiamoci sempre di fare la UV map che ci servirà poi per fare il backing quindi andiamo in UV image editor qua e essendo in edit mode selezioniamo tutto e proviamo a fare un unwrap gli unwrap più promettenti di solito in questo caso su questa figura potrebbero essere il follow active quads che chiedendogli event di solito produce un risultato che è quasi buono vedete manca, alcuni è leggermente difettato ma insomma nell'insieme lo riportiamo in modo tale che stia nella nostra texture sx lo restringiamo un po', ci avviciniamo g, sy ok, più o meno questa qui è una UV map che può piacerci ricordiamo che fare l'UV map è sempre una cosa fondamentale soprattutto quando vogliamo farci il backing sopra ora, prima andando avanti vediamo un po' come si vedrebbe il nostro oggetto e usiamo quindi la visualizzazione rendered l'oggetto è nero perché non ha un materiale ma noi facciamo un trucco che non vi ho mai spiegato che è quello di metterci un ambiente attorno quindi non lavoriamo con le luci ma lavoriamo con un, andiamo in world e in world poi andiamo sulla texture del world e la texture del world ce ne mettiamo una che non è clouds ma sarà image or movie e io mi sono scaricato un'immagine HDR l'apriamo ecco, vedete che mi sono trovato un bel tramonto con tinte un po' diciamo dorate color oro e vogliamo applicare questa immagine che è un punto HDR cioè un punto JPEG HDR vuol dire a forte contrasto luminoso e a forte contrasto e questo lo prendiamo da qua quindi cosa facciamo? reggiamo e vediamo che cosa abbiamo eccolo qua, sunset e abbiamo preso questa immagine questa immagine perché sia visibile il trucco e questo non è banale e che qui si dica che è fatta così cioè che si mette ecco, vedete che adesso è stata presa l'immagine e avendola messa come influenza sull'orizzonte anziché sul blending viene messa come immagine a tutti gli effetti che circonda il nostro anello per fare in modo tale che l'anello rifletta effettivamente questa immagine occorre selezionarlo quindi lo seleziono a tasto destro seleziono il suo materiale che vedete non c'è ancora il materiale magari gli do il nome diciamo anello così poi lo troviamo facilmente gli diciamo che se è un anello d'oro ad esempio lo facciamo di un colore più o meno dorato quindi da queste parti qua ad esempio vedete che compare con questo colore qua in realtà è venuto giallo quindi ecco lo gli mettiamo il mirror quindi vedete che qua in fondo abbiamo un mirror e gli mettiamo come capacità di riflettere tutto nel momento in cui gli ho abilitato vedete che l'oggetto riflette ecco qui ok quindi riflette spero non me lo perda più adesso che riflette quello che lo circonda in realtà torniamo un po' all'immagine conviene mettere il mapping non view ma cercare il mapping che ci da per esempio di solito è l'angular map questo ci da praticamente possiamo scegliere quale effetto ci da il riflesso che più ci piace quindi le sferas angular map pure view forse la cosa migliore era ancora il view di prima però magari possiamo provare a girarlo quindi rx90 quindi stiamo girando il nostro eh no quanto a z ok andiamo magari in modalità solida object rx90 per girarlo un pochino in modo tale che magari fargli prendere degli altri effetti e vediamo se viene quindi giochiamo un po' finché non vediamo che otteniamo l'effetto che ci interessa beh questo effetto qua è già interessante vedete che abbiamo delle tinte un po' più espressive se vediamo che ci sono troppi se il colore non è proprio quello dorato possiamo insistere nel senso che andiamo sul selezioniamo l'oggetto con il tasto destro andiamo nel suo materiale e gli diciamo che i riflessi gli facciamo anche l'oro di colore un po' aranciato e soprattutto lo specchio anche lui lo facciamo che specchia con i colori un po' aranciati ok vedete quindi che diventa molto più scuro e molto più sensato come oggetto in oro ora poi qui bisogna ancora vedere un po' se riusciamo a ridurre l'effetto cioè di solito l'oro non riflette in questo modo così esatto quindi aggiunge un po' di blur di sfocatezza e questo di solito si ottiene dico di solito perché nelle mie prove non sempre riesco a replicarlo mettendo qua un valore di gloss tipo 0.9 ecco vedete in effetti abbiamo ottenuto un effetto che ci piace un po' di più ora una volta ottenuto l'effetto che ci interessa quindi questa cosa qua l'aspetto interessante è quello di fare il baking di questo oggetto quindi magari adesso andiamo qui così sia un po' più veloce facciamo lo vediamo magari di così giusto per vederlo un po' meglio lo rivediamo come rendered l'immagine l'hdr ecco vedete che abbiamo questo effetto che è abbastanza realistico quindi l'obiettivo è quello di riuscire a fare il baking di questa immagine e lo facciamo utilizzando la tecnica che ho spiegato qualche settimana fa quella dei nodi allora ricordiamoci che abbiamo già fatto il nostro dunque qui andiamo in edit mode ok selezioniamo tutto e vedete che abbiamo che abbiamo la nostra UV map andiamo nella modalità di composizione che è questa ok dove vedete che abbiamo il nostro oggetto la nostra UV map e qua sopra abbiamo i nodi che dobbiamo comporre ricordiamoci che per lavorare con i nodi dobbiamo cliccare sul materiale specificare di usare i nodi e qui facciamo lo stesso trucco dell'altra volta quindi cancelliamo introduciamo il famoso nodo extended questo nodo lo associamo al materiale questo vedete e poi qui aggiungiamo un mixer quindi color mixer in cui ci mettiamo sia il colore che soprattutto la specularità che è quella che ci interessa quindi l'effetto finale vedete che è un effetto di questo tipo che a questo punto se andiamo a fare il baking però ricordiamoci che dobbiamo creare una nuova immagine bake senza alfa ok quindi su questa immagine vediamo se riusciamo a fare il baking quindi andiamo in bake bake full render facendo il bake vedete che lui pian pianino con i suoi tempi fa riesce a realizzare il nostro effetto quindi cerca di ottenere la nostra immagine ci impiega un po' di tempo soprattutto se l'immagine originale è molto precisa quindi a questo punto vedete che abbiamo questa questa immagine questo bake e quindi se noi facciamo l'export di questa immagine quindi facciamo image save as image la salviamo e la salviamo come chiamiamolo bake anello punto png in questo caso e poi se prendiamo il nostro oggetto questo e facciamo file export collada e gli mettiamo i preset statici di second life eventualmente includere texture tutte le texture che ci sono e lo salviamo sempre in C e lo chiamiamo anello mesh ok eccoci qui siamo su una grid open sim ne approfitto per farvi vedere che funziona anche analogamente su open sim sono su un firestone faccio l'upload dell'immagine quindi l'immagine che ho salvato prima quella famosa andiamo a prendere che era il bake questa vediamo un po' se l'ho lei eccola ve l'ha ricordata bake anello se per caso la volete un po' più chiara potete farla passare da Gimp o da Photoshop e per migliorare un po' la qualità dell'immagine però diciamo che questa è già interessante per vederla quindi faccio l'upload di questa immagine bake anello e poi faccio l'upload del mio mesh model il mesh model che è il data anello mesh ho salvato prima l'anello mesh vedete che questo e diciamo che lo importiamo non è un toro ma un anello non ha troppissimi vertici quindi va abbastanza bene faccio l'upload di questo anello upload abbiamo l'anello lo grossino ma ci mettiamo sopra la texture bake anello che abbiamo fatto precedentemente ora se tutto è andato bene vedete che abbiamo ottenuto degli effetti di riflessione per cui adesso qui appunto se questo se questo texture la facciamo la facciamo la schiariamo in in jimp risulta ancora meglio però abbiamo degli effetti diciamo che possono essere notevoli e sono difficilissimi da fare se non con questo tipo di tecniche e con questo diciamo è tutto e vi invito a fare degli esperimenti e se non volete pagare appunto per scaricare le mesh e le texture provate a farle su craft oppure su un vostro mondo open sim oppure ancora sulla beta grid di second life e per questo oggi è tutto vi saluto